L'associazione culturale Mivas risorge dalle ceneri. Castellammare con la Mivas è lo slogan coniato per tornare a calcare i palcoscenici. L'appuntamento per le ore 21 del prossimo 11 maggio all'Arena delle Rose di Castellammare messo a disposizione grazie alla sensibilità del sindaco Nicola Rizzo dove gli attori della compagnia Alcamese diretta da Michela Mascali rappresenteranno il musical Renzo e Lucia tratto dai promessi sposi di Alessandro Mazzoni. Si tratta della prima uscita dopo il grave attentato incendiario che distrusse la notte del 1 aprile il magazzino della via Porta Palermo dove erano custodite costumi, scenografie, oggette di scena realizzate dal mese di marzo del 2008 quando venne fondata la Mivas specialista in Colossal, un attentato incendiario sul quale stanno idagando i carabinieri di Alcamo per cercare di dare un nome e un volto a mannante di esecutori che distrusse nel magazzino dove anche venivano effettuate le prove prima degli spettacoli. I promessi sposi vede impegnati 66 attori e da sempre la Mivas coniuga lo spettacolo con la solidarietà poiché coinvolge ragazzi e ragazzi ospite la comunità La Forza con sede a Clattrafimi sagesta che si occupa del recupero di giovani impegnati ad uscire dal tunnel della droga. Il musical è stato rappresentato il 15, 16 e 19 marzo scorso e la mattina è stata dedicata agli studenti. Lo spettacolo in programma a Castellammare fa parte delle iniziative varate dalla Mivas che ha ricevuto centinaia di attestati di solidarietà per raccogliere fondi allo scopo di poter ricchiare costume e coreografie anche se, dice Michela Mascali, sarà molto difficile poter rifare tutto un corredo frutto di anni di sacrificio. Allo stato attuale per le prove utilizzano il Salone dei Salesiani messo a disposizione da società di cooperare a Porta Trapani portando avanti il verbo di Don Bosco. Cinque associazioni palermitane che si occupano di teatro porteranno la loro solidarietà. Si tratta delle associazioni, nuovo giorno, la chiave d'uscita, elementi vive il territorio e scespire. Prima dall'inizio dello spettacolo canteranno tutti insieme The Show Must Gone In Lo spettacolo deve andare avanti, brano famoso dei Queen. Gli attori all'Arena delle Rose reciteranno incise e magliette sulle quali verrà scritto il nome di ognuno. Dietro di loro sarà montato un grande schermo dove scorreranno le immagini con le coreografie della recita fatta al Teatro Cielo un mese e mezzo fa. Sarà anche sorteggiato un abito da sposa messo a disposizione da una nota ditta. Il prezzo d'ingresso è stato fissato in 10 euro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.